Subbiano è un comune virtuoso, uno dei comuni virtuosi della provincia di Arezzo. Si sono liberati dunque spazi importanti sul patto di stabilità. Come verranno impiegati, quindi quali saranno le progettualità nelle quali verranno impiegati questi fondi a disposizione? Ne parliamo con Alessandro Rossi, assessore di questo comune. Gli interventi previsti sono quelli per le scuole, quindi riferiti al plesso nuovo delle scuole elementari e il miglioramento sismico per la piscina. Anche quest'anno il comune ha potuto richiedere, proprio per la sua virtuosità finanziaria, degli spazi finanziari sul patto di stabilità. Quindi abbiamo messo in campo queste progettazioni già da qualche mese che grazie al governo che ha consentito questi spazi, noi contiamo nei prossimi mesi, probabilmente quelli estivi, di realizzare. Abbiamo detto che il comune di Subbiano è un comune virtuoso, ha fatto di questa gestione importante e oculata delle finanze un fiore all'occhiello, un'amministrazione quindi che deve essere davvero entusiasta. Sì, Subbiano è un comune virtuoso, si può permettere di aprire le maglie del patto di stabilità grazie al governo centrale che ce lo permette, perciò gli investimenti che andiamo a effettuare sono veramente importanti. Già questo è il secondo anno che ci permettono di spendere il nostro cosiddetto tesoretto e questo per me mi rende orgoglioso perché un'amministrazione che riesce a spendere quello che ha messo la parte negli anni è fondamentale e importante per il proseguo di questa amministrazione.